cari amici di mille un'avventura vedremo in questo video un classico dell'informatica degli anni 80 70 addirittura forse 60 forse no ma degli anni 70 si il gioco degli animali animal game si chiamava questo particolare programma e andremo a vederlo con l'intelligenza artificiale scopriremo anche chi ci ha suggerito chi ci ha ispirato questo video pensa un animale sei pronto gli diciamo ovviamente sì e ci chiede se il nostro animale è un elefante ecco io avevo pensato al cane quindi gli dico no qual è il tuo animale a cui hai pensato cane fai una domanda che distingue un cane da un elefante e allora potremmo chiedere se abbaia per un cane abbaia è vero falso è vero sì allora proviamo a pensare a un altro animale pensiamo al cane sei pronto sì abbaia sì il tuo animale è un cane bravo hai indovinato ecco questo programma è un classico lo conoscerete sicuramente e ne parleremo in questo video ma prima non ci resta che lanciare la sigla innanzitutto chi ci ha ispirato questo particolare video ieri abbiamo fatto una diretta che è andata malissimo perché doveva essere una diretta su fortnite e non siamo riusciti a farla perché i server erano ancora down però durante il diciamo la diretta è arrivato uno dei nostri iscritti che ci ha ispirato questa particolare ricerca infatti siamo andati a cercare commodore computer club perché ci è stato suggerito e poi qui sotto nei commenti scoprirete chi ci ha suggerito tutto questo che magari ci dà anche il numero della rivista che a cui si riferiva lui ecco c'è questa rivista per commodore 64 commodore computer club il numero 7 io ho trovato questa qui in cui si parla di vari argomenti tra cui siamo ovviamente su ready 64 se vi piace il commodore 64 non potete fare a meno di visitare questo sito mi raccomando e c'è questa rubrica può un computer imparare dai nostri dai propri sbagli e questa rubrica evidentemente è si è ripetuta nel corso del tempo perché mi diceva di questa rivista e di questo particolare articolo riguardo un gioco dell'esapedone che non conoscevo ma ho cercato quindi è saltata fuori questo questo articolo su commodore computer club però è un articolo che non c'entra con l'esapedone ma c'entra con il gioco dell'animale degli animali vedete un piccolo esempio di intelligenza artificiale e questo per combinare l'intelligenza artificiale con il commodore 64 per avere di nuovo un video virale come quello del cad 3d sul commodore 64 comunque sono capitato su questa pagina probabilmente se cerco un pochino trovo anche quello a cui si riferiva Andrea ed ecco qui il nostro programmino in cui ci dicono su questa rivista che questo è un piccolo esempio di intelligenza artificiale c'è tutta il tutto il listato in in basic e cosa fa questo programma in pratica crea un albero binario come avete visto nella nell'anteprima quell'albero binario costruisce a seconda delle domande che ci vengono fatte tutta una serie di alternative albero binario nel senso che ci sono degli archi che partono da ogni nodo e questi questi nodi possono avere solo due alternative la risposta alla domanda può essere vera oppure falsa e a seconda della risposta si aprono delle alternative e alla fine si potrebbe arrivare alle foglie di questo albero dove si trovano degli animali che corrispondono a tutte quelle domande a quelle risposte che abbiamo dato alle domande se l'animale è sbagliato si apre una nuova possibilità una nuova alternativa e si cerca di distinguere tra l'animale che ha proposto il computer quello che pensavamo noi con una nuova domanda quindi un programma molto semplice dal punto di vista concettuale però realizzarlo in basic non deve essere stato facile e su questa rivista del 1900 vediamo un po se riusciamo dell'83 del dicembre 83 quindi era un annetto che il commodore era 64 era in circolazione 2000 lire costava e c'era questo programma realizzato in basic non deve essere facile comunque talmente corto che si può provare a battere tutto quanto oppure a digitalizzare anche se c'è qualche errore è facile da sistemare però andiamo a scoprire più che scrivere questo programma perché adesso non ho il tempo potremmo andare invece a tra l'altro registrava questo interessante quello notato adesso perché qui leggevo male all'inizio potevamo leggere da nastro tutta la serie di domande che erano state costruite di risposte costruite quindi si poteva partire da una base dati già molto ampia mentre se partissimo da zero ovviamente potremmo avere solo pochi animali tra cui scegliere infatti non vedo un database di animali iniziale quindi si cominciava proprio da zero però una volta giocato un po a questo gioco si poteva salvare e quindi si ripartiva con un database più ampio per stupire gli amici con il nostro computer che poteva leggere nella nostra mente grazie alle domande che ci venivano fatte ecco esiste anche su wikipedia la la voce di animal il videogioco in italiano è abbastanza ampia però in inglese deve essere molto più più ampio lingue vediamo un po no non esiste in non esiste questa voce in inglese incredibile siamo sconvolti da questa cosa esiste in italiano ma non in inglese sì non vedo le lingue aggiungi collegamenti e qui c'è un po' di storia adesso ne parliamo perché in effetti andando a cercare un po in giro l'origine di questo gioco a parte che lo sapevamo perché negli anni 80 lo lo avevamo giocato su vari computer c'era addirittura sul wax della digital all'università di di genova che qualcuno se l'era programmato insomma era una cosa che si è trascinata per anni e anni andiamo a vedere quando è nata c'è addirittura animal game il sito animal game si clicca su play now ed ecco che pensa un animale può volare pensiamo al cane anche qui gli diciamo no il cane è molto piccolo già qui compare un cane quindi è molto piccolo un cane non è che sia così grande vive tra gli alberi cane in generale no è un tipo di cane ha ecco addirittura specifico facciamo il cane lupo ha una pelliccia riccia arricciata il cane lupo no ha un pelo lungo no ha una reputazione di di essere feroce facciamo sì è selvaggio no viene dal messico no è nero o marrone sì e c'entra contotto dal mago di hozz non ne ho assolutamente idea diciamo no magari era sì è un tipo di terrier diciamo sì inizia con jack diciamo gli sì a orecchie sì è questo bene quindi pensavamo a un arish jack russell terrier che non so che tipo di cane sia perché queste domande che avete visto sono state aggiunte nel corso del tempo da chi usa questo programma quindi se alla fine si arrivasse a un vicolo cieco cioè non è l'animale pensato avessi detto no probabilmente mi avrebbe fatto una domanda per dire che animale avevi pensato e come posso distinguere l'irish jack russell terrier dall'animale che hai pensato e avremmo dovuto scrivere qualcosa quindi è interattivo e cresce col tempo come altri siti in cui ci sono queste cose che si indovinano create proprio dai dagli utenti questo è animalgame.com ma da dove arriva questo gioco come su wikipedia anche qui ci spiegano che la prima volta che è stato visto questo gioco qui parlano nei 101 basic computer games del 73 david hall david hall con h tra la a e la l è famoso per aver creato proprio un libro forse addirittura una serie di libri in cui si mostrano proprio tutta una serie di giochi per computer in basic e addirittura questa cosa risale a un gioco su un nastro per il sistema operativo rsts dell'agosto del 73 quindi se si va indietro nel tempo una delle prime tracce risale addirittura nel 70 al 73 nel 78 invece è stato pubblicato il libro basic computer games sempre di david hall però è del 78 quindi di 5 anni dopo quindi prima nel 73 era su questi computer pet 11 della digital e qui si vede la pagina del del libro dove c'è proprio il codice sorgente di questo di questo gioco che impara facendoci domande così per curiosità sono andato a vedere cos'era questo rsts 11 dove c'era questo nastro con tutti questi programmi basic dell'agosto del 73 vedete quanti quanti giochi ci sono c'è appunto animal che è questo che abbiamo visto c'è un 3d plot sarebbero da andare a vedere però qui ci vorrebbe proprio un c'è anche il poker vedo qui c'è space war probabilmente questo che abbiamo già trattato sul canale insomma ci sono dei amurabi abbiamo trattato sul canale uno dei primi gestionali su in basic ecco questi programmi in basic per rsts 11 poi li ha riportati nel 78 su un basic ancora più standard sul libro appunto che citavamo prima questo sistema operativo era per il pdp 11 è un computer della digital a 16 bit qui c'è il programma originale per il pdp 11 che non funzionerebbe sui nostri basic normali perché vedo che qui ci sono questi e commerciali che forse sono dei dei commenti o forse stampano qualcosa vedo che c'è input c'è print no quindi sono probabilmente dei commenti però non è un basic così moderno da poter essere eseguito sui nostri computer l'rsts era un sistema operativo multiutente per il pdp 11 a 16 bit qui dietro di me vedete un pdp 11 con le unità a nastro e questo è del 73 il libro 101 basic computer games non c'è neanche l'autore che è david al comunque era della digital equipment corporation che è la digital del vax altro video che abbiamo visto e qui c'è animal vedo che ci è che qui c'è awari e avevo su una cassetta per il commodore 64 la wari game è un gioco particolare dove si muovono dei sassolini mi piacerebbe andarlo recuperare poi vedo qui baseball e qui ce ne sono parecchi di più di giochi su questo libro rispetto al nastro che abbiamo visto prima c'è space war c'è c'è il tris e towers over noi insomma i classici programmi che all'inizio dell'informatica erano stati creati proprio per così anche ricreativi e molto interessanti e questo invece il libro del 78 di david al che forse è meglio ingrandire un po e tra i primi animal vanno in ordine alfabetico animal eccolo qui the basic language vi spiega un po di cose vi spiega come convertire eventualmente per altri basic se questo non funzionasse e qui abbiamo animal vedete l'avevamo anche visto prima qui a wari game è questo particolare gioco con i sassolini le ciotole era interessante e non si riusciva facilmente a battere il computer qui ce ne sono una marea alcuni li avevamo anche già visti in altri video allora cosa ho provato a fare ho provato visto che recentemente garret è riuscito ad avere la versione di codeium quella con chat gpt4 quindi una versione più avanzata questo codeium è un sito che fornisce gratuitamente a singoli la possibilità di avere l'intelligenza artificiale che ci aiuta a programmare anche questa cosa l'abbiamo vista qualche video fa qui sotto vi linko il video se ve lo siete persi e ho provato con codeium a realizzare qualcosa di questo genere ora qui vedete un programma in in python che è quello dell'anteprima che avete visto prima e ho provato con codeium a far creare con la chat che ha a disposizione il programma direttamente da codeium appunto vediamo se riusciamo ingrandire un po solo che ho notato che non non ci riesce molto bene funziona meglio copilot adesso andiamo a vedere poi la versione con copilot io sto cercando di ingrandire ma poi non si legge niente allora la prima il mio primo tentativo voglio creare un programma per l'apprendimento automatico di un computer attraverso domande e risposte scritto in basic per il commodore 64 mi scrivi un esempio funzionante ci ho provato ma è uscito una cosa print qual è il tuo nome input nome print ciao il nome che abbiamo messo print quanti anni hai input età print interessante quant'hai 56 anni non mi sembra molto un programma molto avanzato di apprendimento automatico di un computer attraverso domande e risposte sì in effetti ci ha fatto delle domande gli abbiamo risposto ha preso delle cose ma io speravo che saltasse fuori l'animal game allora gli ho detto non va bene il programma deve porre domande all'operatore per capire per esempio che animale sta pensando e se non indovina aggiornare le informazioni sempre scritto in basic per il commodore 64 e qui un po più complicato ma sempre sullo stile di prima è un mammifero gli dico se gli dico s va a 50 se non dico s non so che animale stai pensando dimmi che animale stai pensando e noi glielo diciamo e lui dice grazie ricorderò che animale non è un mammifero e salta 90 dove ci rifà le domande e poi finisce quindi non c'è un ciclo non c'è una ripetizione non c'è una costruzione dell'albero binario semplicemente ci fa un paio di domande e non apprende assolutamente nulla quindi non riesce codeium fino a qui a fornirci del codice che abbiamo in mente io cerco di suggerirgli che deve essere interattivo con un ciclo che so che aggiorna una sorta di database e qui comincia a creare un po' di di string ma anche questa se la proviamo non funziona non ci siamo poi gli dico c'era un programma che si chiamava linneo per esempio linneo è quello che ha fatto un po' la classificazione degli animali nel credo 700 e quindi le varie famiglie di animali il programma si trovava a volte con il nome di linneo poi lui mi dice non posso scrivere un programma simile con il comdor 64 potrei usare python io gli ho detto insisti col comdor 64 lui non lo fa allora gli dico mi arrendo scrivilo in python e scrive questa roba in python che non funziona l'ho provata ma non funziona lui mi spiega che c'è un database e tutto ma il programma non funziona poi gli dico usa alberi binari crea un programma con alberi binari perché mi sono ricordato com'era la struttura per realizzare il classico animal game usa python lo crea somiglia ma non funziona quindi codeium anche se usa chat gpt4 qualche problemino con la chat ce l'ha ancora probabilmente bisogna essere più attenti a fargli le domande allora voi direte ma il programma che hai usato tu te lo sei scritto da solo ovviamente ci vuole un po' di tempo non avevo il tempo per farlo neanche ricopiare quello sul comdor 64 e allora come ci sono riuscito avere il programma funzionante mi ha aiutato copilot di copilot di edge di windows 11 sapete che ormai su windows 11 penso che l'accesso sia a tutti non solo a quelli che hanno la versione beta degli sviluppatori c'è copilot direttamente in edge oppure ce l'avete addirittura no qui non lo vedo però a volte compare anche anche qui sulla barra di windows 11 e allora anche con copilot ho fatto lo stesso discorsetto subito mi ha proposto un programma in basic che è molto simile a quello di codeium ma non funziona neanche questo domande risposte ma non c'è l'apprendimento vero e proprio gli dico che non andava bene niente anche qui non ci riusciamo però poi gli dico direttamente crea un animal game in python così d'amblè senza specificare cos'è animal game e questo è il programma che avete visto in funzione infatti ci spiega è scritto piccolo non lo vedete in questo gioco è dietro di me quindi lo leggo io in questo gioco ogni nodo dell'albero rappresenta o una domanda con rami sì e no o una supposizione finale sull'animale se il gioco non riesce a indovinare correttamente chiede all'utente di fornire una nuova domanda e un nuovo animale che vengono poi aggiunti all'albero buon divertimento ecco questa cosa ovviamente può aver fatto una ricerca su internet e avere trovato il codice già fatto in python potrei chiedergli di creare una versione per il commodore 64 puoi creare una versione del programma precedente con il basic del commodore 64 vediamo un po' che cosa salta fuori purtroppo non si può ingrandire il sì posso creare una versione semplificata del gioco degli animali in basic per il commodore 64 e non ci riesce tuttavia a causa delle limitazioni del linguaggio basic non sarà possibile implementare un angelo di decisione completo o memorizzare dinamicamente nuovi animali e domande ecco un esempio di come potrebbe essere fatto ecco vedete non ci riesce perché non riesce a immaginare col basic del c64 la costruzione di un albero binario eppure come avevamo visto ci sono programmatori che ci sono riusciti a parte che qui non si vede niente ma nella pagina successiva vedete che insomma si riesce neanche in tante linee di codice a creare qualcosa del genere quindi chat gpt4 non era colpa di codeium in sé ma è colpa di chat gpt4 che non riesce a costruire qualcosa che è molto facile in python grazie alle strutture datiche a disposizione ma che bisogna emulare con opportuni accorgimenti sul c64 per esempio se guardiamo la prima pagina vedete che c'è una non lo vedete ve lo dico io c'è una stringa o meglio un array di string che ha 300 posizioni e in queste 300 posizioni 300 slot 300 string e in queste 300 300 string mano a mano che si gioca compariranno le domande che creano l'albero binario e gli animali quindi al massimo si arriva per le limitazioni di memoria a 300 string però in effetti con un programmino non troppo lungo si può fare questa cosa qui ora riproviamo per finire proviamo a pensare adesso a un a uno squalo sei pronto sì abbaia lo squalo no è un elefante no qual è il tuo animale lo squalo cosa distingue uno squalo da un elefante e gli elefanti nuotano tutte e due hanno la coda quindi la coda non funziona lo squalo respira sott'acqua respira sott'acqua sott'acqua per uno squalo respira sott'acqua sì pensa un animale proviamo a pensare lo squalo sono pronto abbaia lo squalo pur essendo pesce cane non abbaia respira sott'acqua sì è uno squalo sì e allora proviamo adesso a mettere un altro tipo di pesce anzi mettiamo un delfino sottile questa cosa sei pronto sì abbaia il delfino non abbaia al massimo fischia fischia respira sott'acqua non respira sott'acqua è un elefante no qual è il tuo animale il delfino quindi non siamo riusciti ad arrivare fino allo squalo perché già la domanda ci ha portato in un altro ramo cosa distingue un delfino da un elefante nuota sott'acqua immagino che gli elefanti mi pare che nuotino ma non mi pare che vadano sott'acqua quindi può essere una buona distinzione il delfino nuota sott'acqua sì anche se non respira sott'acqua allora pensa un animale cosa ci mettiamo il delfino appunto abbaia no respira sott'acqua no nuota sott'acqua sì e l'animale è il delfino ecco in python chat gpt4 è riuscito a riprodurre l'animal game proprio dicendogli crea animal game in python se gli chiedo di creare animal game per il commodore 64 non ci riesce e l'intelligenza artificiale ha ancora dei limiti bene se avete domande qui sotto potete farle ringraziamo andrea che se non sbaglio mi ha suggerito di fare questo video che però sul gioco dell'esa pedone quindi l'andremo a cercare perché è un gioco con dei pedoni uno scacchi semplificato mi diceva nel nel video durante la diretta di quel video che vi ho mostrato ringraziamo garret che grazie al fatto che lui ha richiesto di avere codeium con chat gpt4 mi sono arrivati dei link per invitare qualcuno e quindi anch'io adesso sono nella closed beta di chat gpt4 per codeium e quindi prima o poi faremo ancora qualche programma in a non gli ho detto che ha ragione hai ragione ho indovinato pensa un animale basta abbiamo capito che funziona quindi farò ancora qualche programma probabilmente andremo avanti con l'avventura testuale e vedremo se codeium con chat gpt4 è ancora più potente nel suggerirci come proseguire nella programmazione del nostro gioco grazie a tutti per essere arrivati fin qui a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivedi in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti